Un'attesa, c'è un snows, no? E allora... Ho toccato a cogliere l'occasione per passare il tempo, no? Noi diamo un tributo che trovo molto divertente, il canale quello di... Thousand Lights! Il canale che non è italiano è molto forte, no? Thousand Lights! Qui l'accendini. E trovo molto molto divertente da parte quella giocosa, giocolosa, ma... C'è affambraccio! E questo resta dentro! Questa è dei giochi, non di fuochi d'artificio, dei giochi di prestigio, no? Allora, io oggi farò un FaceTouse, metto in tasca il telefonino, e dovrei riprenderlo dalla tasca. Derigato a Thousand Lights! Mira Scendini! Mira Scendini! E lo trovo molto bravo nel suo... Trovo molto intelligente aver fatto un canale che si occupa di far giocare le persone. Il telefonino... Andiamo a intascare... Assolutamente! Dalla tasca! Dalla tasca! Dalla tasca! Non mi sembra che sia uscire dalla tasca! Proprio non mi sembra uscire dalla tasca! Secondo te sto male? Io ho la vita! Tutta la vita! Bella per te! Due minuti! Due minuti o è morto o sta a farmi lasciare un portante! Dalla tasca! Dalla tasca! Dalla tasca!